Duello a Strasburgo, sarà il buratino mosso da Salvini e Di Maio, io buratino non lo sono, non mi sento, vergognoso si dovrebbe vergognare, tanto dal 27 maggio cambiano mestiere questi burocrati europei, un atto veramente miserabile davanti a rappresentanti di tutti i paesi dell'Europa, un atto misero. L'attacco a Conte, a Strasburgo, perché si è fatto secondo me? Grazie, no come? Andre, è stato un attacco? No, c'è stato un attacco anche oggi qua, da parte di Gaspardo. Insomma, l'attacco a Conte, come è sembrato a Strasburgo? L'attacco a Conte, io già ho i miei casi, ma mi vuole farlo. Faranno almeno del mio parere. Perché il Presidente del Consiglio dei Ministri è il rappresentante della forza o delle forze politiche che sostengono, il rappresentante degli italiani è il Presidente della Repubblica. Io sono quale Presidente della Repubblica, sono garante della coesione nazionale.